rifiuta le sue briciole in modo che diventi disperato per te e ti cerchi allora è evidente che esiste una legge in amore e questa legge è la legge dell'energia se noi dedichiamo energia a qualcuno ci coinvolgiamo e ci innamoriamo se noi diamo forza diamo energia diamo attenzioni a qualcuno tendiamo a innamorarci questo è un dato di fatto è un qualcosa innegabile non possiamo far meno di innamorarci perché si innesca un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva che fa sì che ci innamoriamo ovviamente la cosa bella è se dall'altra parte si riceve la stessa energia quindi avviene un innamoramento reciproco le persone sono mutualmente coinvolte e quindi può manifestarsi una relazione che può durare nel tempo può manifestarsi una relazione che può avere un suo seguito se invece funziona che una persona da e l'altro invece da solo le briciole succede che chi da tende a coinvolgersi e chi dà le briciole non tende a coinvolgersi e quindi purtroppo vivrai una relazione in cui tu sarai fortemente innamorata ma l'altra persona no e questo porta uno squilibrio nella relazione porta una relazione che non ti può dare nessun beneficio porta una relazione che non ti può dare nessun vantaggio e allora bisogna imparare a invertire la clessidra bisogna imparare a cambiare un attimino le carte in tavola tenendo presente una cosa che la penalizzazione è ciò che seduce la penalizzazione è un piatto sul quale serve la gratificazione la penalizzazione da emozione e quindi tu devi imparare a penalizzare se vuoi dare emozione questo credo che sia evidente perché la nostra parte emotiva non distingue tra bene e male la nostra parte emotiva non distingue tra piacere e sofferenza la nostra parte emotiva non distingue tra il matrimonio e il funerale diciamo anzi paradossalmente preferisce il matrimonio il funerale al matrimonio perché dà più emotività quindi se tu vuoi invertire le cose devi sfruttare la penalizzazione deve diventare penalizzante ora tieni presente che che cos'è penalizzante è penalizzante tutto quello che smette di essere gratificante quando una gratificazione smette di esserci questa diventa una penalizzazione il che vuol dire che se tu come dire non gli dai più tutte quelle attenzioni che gli davi prima automaticamente lo stai penalizzando cioè gli togli qualcosa che gli hai dato e quindi qual è l'unico modo per togliergli quello che gli dato beh rifiutare le sue briciole rifiutare diciamo le sue attenzioni cioè chiudere la relazione paradossalmente se una persona ti dà delle briciole l'unica cosa che devi fare è chiudere questa relazione se vuoi ottenere di più e tu dici e se poi sparisce per sempre se sparisce per sempre amen non hai perso niente non hai assolutamente perso niente anzi se non sparisce e tu continua ad accettare qualcosa di perdi qualcosa cioè perdi la tua dignità e allora questa è l'unica strategia che tu puoi mettere in atto l'unica strategia che ti può dare dei risultati cioè se la gratificazione che tu gli dai non ti dà non ti permette di ottenere dei risultati devi fare esattamente il contrario passare alla penalizzazione vedrai che la penalizzazione ti darà dei risultati e quindi questa cosa qua però devi farla in maniera puoi farla in diverse modalità puoi farla in modo graduale però in modo graduale cioè in modo graduale potresti provare ogni tanto non ci sono ogni tanto mettendo un vincolo no guarda stasera non riesco perché è un altro impegno no guarda stasera non riesco per cosa fa quello no guarda stasera non riesco per far quell'altro ecco quindi che tu puoi mettere in campo tutte le tue strategie per ottenere i risultati migliori i risultati che vuoi ottenere questo è quello che tu puoi fare se vuoi raggiungere dei risultati importanti nella tua vita da un punto di vista sentimentale effettivo oppure potresti far usare una strategia più strong cioè non far libidoni o iniziare a trattarlo con indifferenza ma chiudere proprio la relazione dire no guarda non ho conosciuto altre situazioni non potresti mettere un antagonista oppure potresti semplicemente sparire questo è un altre modalità quindi ovviamente ci sono se vuoi ottimizzare diciamo la possibilità di aver successo dovessi tenere un po presenti le caratteristiche dell'altra persona se si tratta di una persona prevalentemente emotiva allora meglio sparire senza dare motivazioni perché questo genera più pathos più coinvolgimento se invece si tratta di una persona iperlogica devi fargli intendere le motivazioni no guarda cerchiamo altro tu hai bisogno di altro io bisogno di altro non siamo fatti l'uno per l'altra insomma gli dai una motivazione generica perché non è che la motivazione deve essere specifica e poi dovrà essere lui che proietta e da lì in poi sparisci e poi vedi quello che succede possono verificarsi a questo punto le situazioni o ritorna e a cercarti e allora tu metterai dei vincoli vedrai cosa farà cioè il vincolo deve essere devi non darmi le bricele ma darmi attenzione eccetera oppure tenere presente che se eventualmente non dovesse più tornare vuol dire che il tuo potenziale era zero praticamente non avevi potenziale e quindi a quel punto lì non hai perso niente puoi andare a farti le tue cose da altre parti e la vita è fatta anche di questo bisogna anche accettare queste situazioni non ci sono altre possibilità perché tutte le altre possibilità non sono contemplate insomma cioè l'altra possibilità sarebbe che poi torni indietro che poi accetti se tu inizi ad accettare inizia a ritrattare inizia a dire va bene va bene ma dai va bene così e allora no ne farà di te polpette qui nel momento in cui si mette un vincolo bisogna andare avanti fino alla fine non c'è più possibilità di ritrattare questo è quello che deve imparare a fare non ci sono davvero altre cose tu accetti le briciole vivrai di merda una relazione sentimentale affettiva se tu fai quest'atto di coraggio la tua vita cambierà se non altro migliorare la tua autostima quindi in linea di principio in linea generale diciamo inizierai ad amarti di più e le cose comunque sia andranno meglio sia che torni sia che non torno bene per questo video è tutto iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video in più seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale seguimi su tik tok